Si è svolta ieri a Nago la tradizionale festa enogastronomica Caminar Magnar en Tanque Veinadal, organizzata da diverse associazioni del paese, giunta quest'anno alla quinta edizione. Premiati da una bella giornata di sole, grandi e piccini sono a corsi numerosi, in un clima di autentica convivialità. Molti i punti di ristoro nelle stradine e nei volti caratteristici del borgo, che hanno accompagnato i partecipanti, circa 800, a degustare un pasto completo, dagli antipasti tipici ai primi alla selvaggina, passando per polenta e mortadella fatta in casa, broccolo di torbole, castagne e fortaje e gli immancabili dolci natalizi. Le vie del paese sono state animate dai trampoglieri dell'Officina del Sorriso e dalla musica itinerante in collaborazione con la scuola musicale Alto Garda, con le fisarmoniche di Marco e Mirko e il coro Note dell'Anima. I partecipanti sono stati chiamati a votare i presepi che abbelliscono il paese. L'iniziativa ogni anno si rinnova ed aggiunge un pizzico di qualità in più, soprattutto grazie alla collaborazione di moltissimi volontari che per un giorno trasformano Nago in un'accogliente cartolina.